14 maggio 2020, San Mattia, una delle rare raffigurazioni dell'Isola Sorrentino, lo abbiamo qua, nella sacristia della chiesa di Sant'Agnello, dei Santi Agnello Attrici, che lo vediamo raffigurato sulla parete nord. Accanto a lui c'è un altro santo che è San Jacopo Minore. Sono stati dipinti da Antonino Castellano, Antonino Fiorentino, nel 1867, quando tutta la sacristia fu riaggiornata.